ciao sono il dottor max benvenuto nella sezione della lista completa delle farmacie in italia in questa guida ti fornirò un elenco dettagliato di tutte le farmacie presenti sul territorio italiano nella lista troverai i nomi delle farmacie i loro indirizzi completi i numeri di telefono e codice della farmacia al fine di aiutarti a trovare facilmente la farmacia più vicina a te in questo video nello specifico ti elenco le farmacie che si trovano ad arezzo in provincia di arezzo in toscana farmacia al corso snc corso italia 73 telefono 0 5 7 5 2 0 6 1 8 codice 7.947 farmacia antica del servo via al fieri 49 c telefono 0 5 7 5 9 4 7 2 0 7 codice 7.951 farmacia centrale corso italia 120 telefono 0 5 7 5 7 5 2 1 6 7 0 codice 7.954 farmacia comunale n8 località case nuove 73 10 codice 18.954 farmacia comunale n2 via trionfo 82 telefono 0 5 7 5 9 1 0 3 8 4 codice 7.937 farmacia comunale n4 via a rezzo via campomarte 7 telefono 0 5 7 5 7 5 3 5 7 6 5 9 codice 7.954 farmacia comunale n7 arezzo via benvenuto cellini 9 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 10.957 7.954 farmacia comunale n3 a rezzo via benvenuto cellini 9 telefono 0 5 7 5 3 8 1 7 6 9 codice 16.767 farmacia comunale n3 a rezzo via benvenuto cellini 9 telefono 0 5 7 5 3 5 7 6 6 2 codice 16.765 farmacia comunale numero 5 arezzo località s giuliano 15 località san giuliano 15 telefono 0 5 7 5 3 6 3 0 6 1 codice 16.763 farmacia comunale numero 8 case nuove di ceciliano 73 10 codice 18.428 farmacia comunale numero 6 mecenate viale mecenate 5 telefono 0 5 7 5 2 1 4 1 3 codice 16.766 farmacia della chimera via montefalco 19 telefono 0 5 7 5 2 1 3 6 8 codice 7.958 farmacia di olmo di romanelli federica e c snc via romana 83 località olmo codice 7.955 farmacia di pescaiola del dottor matteo coradeschi via dal borro telefono 0 5 7 5 2 0 3 3 9 codice 7.945 farmacia di saione via vittorio veneto 115 telefono 0 5 7 5 9 0 7 5 1 6 codice 7.952 farmacia indicatore località indicatore 12 f località indicatore 12 f telefono 0 5 7 5 3 6 8 0 3 0 codice 7.959 farmacia la marchiona snc delle dottoresse tosto patrizia e pecorari vita via alessandro del vita 3 quarti codice 19.462 farmacia maestà di giannino snc via martiri di civitella 7 codice 19.083 farmacia amerelli srl corso italia 157 telefono 0 5 7 5 2 1 9 3 9 codice 7.953 farmacia palazzo del pero località palazzo del pero 59 codice 7.948 farmacia ponte alla chiasa località ponte della chiesa 48 località ponte alla chiasa 314 codice 7.960 farmacia romanelli brunello corso italia 261 263 telefono 0 5 7 5 2 0 3 1 4 codice 7.956 farmacia ruffini fanfani del dottor gabriele ruffini via trento trieste 34 codice 7.957 farmacia s marco snc via romana 77 telefono 0 5 7 5 9 1 1 6 6 6 6 codice 7.946 farmacia ss annunziata dottor del guasta via tarlati 105 di codice 7.944 farmacia santa maria delle grazie snc via della robbia 50 52 codice 19.084 farmacia scorte ci detta via 7 ponti località 40 codice 7.950 farmacia tiezzi piero luigi via rigutino est 182 località rigutino codice 7.949 farmacia tregozzano snc località tregozzano 56 c codice 19.458 farmacia vasari snc via p benvenuti 19 codice 19.288 ad arezzo non ci sono altre farmacie da segnalare in questo momento sappiamo quanto sia importante avere accesso a farmaci e prodotti sanitari di qualità soprattutto in momenti di necessità o emergenza ti invitiamo a utilizzare questa lista come punto di partenza per individuare la farmacia più comoda per le tue esigenze personali ti ricordo che la lista delle farmacie presenti in questa guida è basata sui dati disponibili al momento della sua pubblicazione pertanto ti consiglio di verificare sempre gli orari di apertura e le eventuali variazioni contattando direttamente la farmacia di tuo interesse il dottor max e il suo team sperano che questa lista sia di grande utilità per te ti augurano un accesso rapido e sicuro a tutti i servizi farmaceutici di cui hai bisogno la tua salute è importante e siamo qui per aiutarti a prendertene cura questo canale potrà esserti utile in futuro ti consiglio di iscriverti grazie ancora per l'attenzione buon proseguimento